Ancora una volta i camion provenienti da Cosenza sono stati bloccati e non si è potuto scaricare quanto raccolto. Lo dice senza mezzi termini il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, che ha convocato una conferenza stampa urgente. Ci invendiamo soluzioni per evitare di lasciare i rifiuti strada perché non sappiamo dove portarli, non abbiamo i luoghi dove poterli conferire, che non dipendono dal comune ovviamente. Questi sono sia gli impianti che le discariche che sono in mano a privati che spesso per situazioni strumentali, spesso per aspetti gestionali legati alla loro attività di impresa, creano disagi e non fanno conferire i rifiuti. Occhiuto sottolinea che la raccolta differenziata porta a porta sta dando ottimi frutti e annuncia anche l'imminente avvio della realizzazione di un impianto di selezione e trasformazione dei rifiuti che dovrebbe sorgere entro 18 mesi nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo. Quella che noi abbiamo progettato è una struttura che riguarda gli immateriali secchi, che voglio dire sono circa il 70% del totale dei rifiuti, che quindi quasi totalmente possono essere riciclati in questo modo riducendo al massimo il volume di rifiuti che devono andare in discarica e quindi rientrodotti in un mercato, perché è un mercato appunto degli oggetti che vengono poi riutilizzati, di quelli che vengono attraverso le materie prime, attraverso procedimenti industriali, rimessi sul mercato. L'impianto avrà poi anche una linea di riciclo dei rifiuti organici. Il costo dovrebbe essere di circa 6 milioni di euro a fronte di una spesa annuale per i rifiuti, sopportata dai contribuenti cosentini, di circa 15 milioni di euro. Grazie.